Ciao, mi chiamo Sara, ho 30 anni e vivo a Pisa. Mi sono laureata in scienze politiche e relazioni internazionali e dopo aver fatto alcune esperienze nel non profit come il servizio civile in carita, se poi un tirocino in una cooperativa sociale, ho iniziato a lavorare in questa cooperativa e da lì poi loro mi hanno espresso il desiderio di fare raccolta fondi. Io volevo professionalizzarmi per capire quegli strumenti adottare e ho trovato questo master. Mi sono iscritta quindi a questo master perché ho visto che i relatori erano tutte persone con molta esperienza nel non profit ed era proprio quello che stavo cercando. I punti di forza di questo master sono sicuramente il fatto che a ogni lezione impari qualcosa da mettere subito in pratica, quindi proprio per me anche, soprattutto che lavoro, quando torno in ufficio so già esattamente, ho già di vedere chiare su quello che potrei fare. Un'altra cosa è sicuramente il fatto che quest'anno in classe siamo più di 40, abbiamo tutte esperienze diverse, c'è chi studia, c'è chi non lavora ancora, c'è chi invece lavora anche provenendo dal campo del profit, quindi c'è sempre uno scambio di esperienze diverse, di idee nuove, di nuovi spunti. E questo ci permette anche di metterci a confronto avendo anche idee a volte molto diverse che comunque ti arricchiscono sempre.